In attività dai primi anni 90, è ormai considerato tra i massimi esponenti della scena Sky Reg internazionale contemporanea. In questi anni ha pubblicato nove dischi solisti in tutto il mondo con numerosi tour tra USA, Canada, Europa, America Latina, Indonesia e Giappone, moltissimi i festival di cui è stato ospite. Karnasca Festival, San Paolo, Brasile, Semarang Ska Festival, Semarang, Indonesia, London International Ska Festival, Londra, Regno Unito Montreal Ska Festival, Montreal, Canada, Roto Thompson Splash, Osoppo, Italia, Benicassin, Spagna, Triflors of Ska, New York, USA, Slackfest, New York e Boston, USA, Rio Fest, Chicago, USA, Kiemsee Reg Festival, Kiemsee, Germania, Lowland Paradise Festival, Amsterdam, Paesi Bassi, Eurosonic, Groninga, Paesi Bassi, Tokyo Sky Ambore, Tokyo, Giappone, Skatown Festival, Madrid, Spagna, e Romo Festival, Bilbao, Spagna, Dance Scala Festival, Rennes, Francia, Dor Festival, Bruxelles, Belgio, Mity Sound, Praga, Repubblica Ceca, Semarang Ska Festival Semarang Indonesia parallelamente alla sua attività solistica MR. T-Bone ha anche collaborato con artisti del calibro di Derek Morgan, Willie Williams, Mickey Dredd, New York's Kages Ensemble, David Iliard and The Rocksteady 7, Victor Ricce, The Slackers, Tokyo Sky Paradise Orchestra, Carolo Regians, DR, Ring Ding, Casino Royale, Mau Mau, è stato membro di Giuliano Palma and the Blue Beaters dal 1999 al 2008 e della reggae band italiana, Africa Unite dal 1999 ad oggi. Nel 2006 fonda Young Leons, registreranno insieme due dischi, il primo, Eroes, pubblicato nel 2008, ha vinto il premio come miglior disco dell'anno in Canada. Il secondo e ultimo, Nathan Toulouse è stato pubblicato il 7 ottobre 2011 dall'etichetta di Chicago Jump Up Records. Il tour che lo presentò iniziò l-8 ottobre 2011 dagli USA passando per il Canada e fino ad aprile-2012. Toccando Italia, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Bulgaria e Macedonia. A gennaio 2012 è uscito per l'etichetta giapponese, Sky in the World, un 7 pollici, MR. T-Bone plays The Beatles, e il primo, The Best of MR. T-Bone, che comprende 16 brani scelti tra i suoi lavori solisti. Sciolti, The Young Leons. A gennaio 2012 è uscito per l'etichetta giapponese, Sky in the World, un 7 pollici e il primo, The Best of MR. T-Bone, che comprende 16 brani scelti tra i suoi lavori. Sempre nel 2012 pubblica, The Italian Job, un set in collaborazione con la band belga, The. Carolo Regians, dove rielabora in chiave early reggae dub quattro successi italiani degli anni 60. Nel 2013, dopo la fuoriuscita dalla band di Giuliano Palma, rifonda i The Blue Beaters insieme ai membri storici della band Ferdi Masi. Cato senatore, Patrick Benifei e Paolo Parpaglione registrano l'album Every Body Knows per l'etichetta record. Kicks, nel 2014 sbarca in America Latina e suona al Carnasca Festival a San Paolo accompagnato da Orquestra Brasileira de Musica Giamaicana per proseguire per il primo tour in Messico suonando a Città del Messico, Guadalajara e Leon, accompagnato dalla band Isla Groove. Nel 2014 ha coronato il suo sogno suonando con Scatalites, nelle tre date italiane di Marghera, Roma e Parma, tappe del tour mondiale che festeggia i 50 anni di attività della band. Sul finire del 2015 fonda The Uppertones, un trio dedicato al sound della Giamaica degli anni 50. Quando il mento e il calipso si fondevano con il bugi. Lo shuffle creavano quello che verrà definito Jamaican bugi. Gli Uppertones sbancano il botteghino. Pubblicano il loro primo disco a dicembre 2015 e da gennaio 2016 partono per un tour incredibile. Chi li porterà in giro per tutta l'Europa tra festivals e clubs suonando 120 concerti in 12 mesi.